Sarà il Verona l'avversario del Pescara nella semifinale play-off. Il Perugia ridotto in dieci dal diciannovesimo della ripresa espulso. Juan pareggia al novantesimo ma crolla nei supplementari. Finisce 4-1 per gli scaligeri. Marcatori al quarantunesimo del primo tempo di Carmine, al quarantaquattresimo della ripresa Vido sul rigore, al decimo del primo tempo supplementare Emper Eur, al dodicesimo e al quindicesimo del secondo tempo supplementare Doppietta di Pazzini subentrato a Di Carmine. Il quadro delle semifinali si comincia martedì alle 21, Cittadella-Benevento, il giorno dopo, mercoledì 22 maggio, Verona-Pescara. Ritorno sempre alle 21, sabato 25 maggio, Benevento-Cittadella, domenica 26 maggio, Pescara-Verona. Il vantaggio, di certo, non trascurabile di giocare per due risultati su tre. Ai Biancazzurri basterebbero due pareggi. Pillon ha recuperato Fiorillo, Delgrosso e Bruno. Si nutre fiducia su Brugman. Il capitano accusa un risentimento all'altezza della quadricipite della coscia, ma dovrebbe farcela. Tifosi già in fermento. Del resto, da sempre, Pescara-Verona è una sfida, per tanti motivi, tutt'altro che banale. Il voto e la conferenza è un risultato.